Cerchiamo di fare il punto su quella che è chiaramente un'emergenza idrica, quindi è importante razionalizzare le risorse, i piani di gestione. Voci di corridoio parlano di addebitamenti sulle bollette dei cittadini di Piana per il prelievo delle acque dai pozzi di alto fonte. Vediamo un po' la verità. Non è assolutamente così, a parte che non si parla delle cifre di cui ho sentito parlare, ma in ogni caso è chiaro che non vengono addebitate ai cittadini di Piana degli Albanesi, hanno la stessa tariffa che hanno tutti gli altri 34 comuni della provincia di Palermo. Che sia chiaro che l'AMAP non è padrone di nessuna sorgente, di nessuna diga. Le diga sono della regione siciliana. Questa in particolare è data in gestione all'Enel ed è nata perché l'Enel ne produce energia. Noi facciamo un tavolo mensile alla regione dove si stabilisce l'acqua che deve essere presa per la città di Palermo e i comuni a cui forniamo l'acqua. Cosa emerge dalle vostre interlocuzioni con proprio la regione che dovrebbe sovrintendere per essa l'assessorato all'energia? Ma guardi, noi nei tavoli stabiliamo quant'è la quantità d'acqua che deve essere presa. L'unica cosa che io posso lamentare è che in questo periodo di emergenza da febbraio ad oggi noi abbiamo fatto tutto quello che potevamo attivando i nostri pozzi, facendo la nuova condotta che da Presidiana porta acqua alla condotta di Scillato. Però vedo la regione completamente ferma. Siamo qua per capire con i vertici dell'AMAP quale possa essere una soluzione tampone per ridurre questo drammatico prelievo delle acque del lago. Abbiamo cercato tecnicamente di capire quale potrebbe essere una delle tante opzioni per ridurre la portata del prelievo. Certo, il soggetto istituzionale non è solo l'AMAP ma è anche la regione, il Presidente Musumeci. Quindi faremo pure leva su questi altri soggetti istituzionali per cercare di limitare al massimo il prelievo delle acque di Piana che sta causando un grave problema economico a tutti gli operatori turistici ed economici che danno l'infa vitale al tessuto economico del comune di Piana. Noi siamo preoccupati per la desertificazione che potrebbe venire fuori, per questo stiamo prendendo in caso questo problema ma con la stessa onestà dobbiamo evidenziare come il ruolo dell'AMAP inizia e finisce però contemporaneamente entro determinati confini. Questi confini oggi ci portano dall'altra parte della sponda e da quella parte della sponda c'è ovviamente la competenza dell'assessorato regionale. Io vorrò chiedere all'assessore regionale dell'energia che fine ha fatto quella disponibilità delle risorse legate a Palto con il Sud, somme che si aggirerebbero intorno ai 4 milioni di euro, è giusto che l'AMAP cofinanzi l'opera e credo che ci sia almeno un 25% dell'attività che sarebbe ovviamente come dire aggravare su spalle di AMAP ma è giusto altresì che l'assessorato sblocchi queste disponibilità, intervenga immediatamente quantomeno appaltando l'opera e creando le condizioni che attraverso questo approvvigionamento siti come quello dei piani degli albanesi possano essere alleggeriti.